Polizia schierata intorno a un'area isolata. Danni minori a un edificio e vetri a terra. Sono le tracce di un presunto attacco di droni ucraini a Mosca. Le autorità russe affermano di averne neutralizzati due, uno dei quali si è schiantato non lontano dal Ministero della Difesa nel centro della capitale. Non ci sono state vittime. Ma Mosca non è stato l'unico obiettivo degli attacchi ucraini. Secondo la Russia, 11 droni sono stati abbattuti nella notte in Crimea. Mosca ha ammesso che un drone ha colpito un deposito di munizioni nella regione di Djankoi, nel nord del territorio che la Russia ha annesso nel 2014. Le tensioni nell'area si sono fatte sentire dopo l'attacco della scorsa settimana allo strategico ponte di Kersh, che collega la penisola alla Russia continentale. Da allora la città portuale ucraina di Odessa è sotto il fuoco russo.